La sua vita è stato detto molto oggi in quest'Aula e fuori nei giorni che hanno seguito la sua scomparsa. Abbiamo ricordato il suo impegno di partigiana, la sua nomina ministra, prima donna ad ottenere questo incarico dopo 30 anni di vita della Repubblica, l'approvazione della legge di parità di trattamento tra uomini e donne, la creazione del Servizio Sanitario Nazionale, un sistema che include e garantisce a tutti il diritto alla salute e ancora oggi, nonostante i tagli, è un vanto del nostro Paese. Si è parlato di lei come esempio concreto di come le donne in politica possono fare la differenza, come lei stessa disse in un'intervista di qualche anno fa, quando le donne si sono impegnate nelle battaglie, le vittorie sono state vittorie per tutta la società. Ma ancora una volta, come spesso accade quando una donna è impegnata in politica, si è parlato del suo aspetto fisico, del suo modo di vestire, della sua presunta mancanza di femminilità. Si è sottinteso, a volte si è esplicitato apertamente che dunque era brava. E si sono fatti paragoni con le attuali giovani ministri, non sul piano delle capacità e delle professionalità, ma spesso su caratteristiche estetiche, perché siamo ancora un Paese dove quando si intervista una ministra si fanno domande sulle scarpe che porta. Siamo un Paese dove una donna bella è per forza stupido o ancella fino a prova contraria. A dimostrazione che la parità conquistata con le leggi è ancora lontano dal permeare la mentalità e i costumi italiani. A dimostrazione che quelle conquiste raggiunte, grazie alle battaglie delle donne, come diceva Tina Anselmi e alle sue nipoti, non sono mai per sempre e che non bisogna mai abbassare la guardia.